ed ora dalla pagina le vere origini di halloween scritto due ore fa non poteva certo mancare anche quest'anno l'ennesimo volantino anti halloween questo in particolare una vera cozzaglia di travisamenti e superstizioni mascherati da qualcuno pensi pensi ai bambini pensi ai bambini non capito mascherati da qualcuno a mascherati da qualcuno pensi ai bambini scusate giustamente in questo volantino si legge che halloween sarebbe il compleanno del diavolo mamma mia aiutateci peccato che non c'è alcuna sacra scrittura antica o moderna che nomini questa data o che si riferisca a un ipotetico compleanno di satana in realtà è l'ennesima invenzione di qualche bigotto cristiano sono d'accordo che non sa che le tradizioni di halloween sono antichissime nati nati secoli prima che la chiesa sementasse la figura del diavolo viate pazienza andando avanti leggiamo una curiosa ipotesi festeggiare mascherarsi e fare dolcetto scherzetto addirittura sarebbe una seduta spiritica è ovvio che chi ha scritto il volantino non abbia idea scusate non capisco mai perché c'ho le cuffie ah sì perché stavo ascoltando non abbia idea la minima la minima idea di cosa sia e di come si svolga una seduta spiritica ma qui come dicevamo è un minestrone di superstizioni pasticciate insieme c'è proprio di tutto maledizioni, inganni, adorazione del diavolo, invocazioni, sedute spiritiche, compleanne satanici e chi più ne ha più ne metta e dulcis in fundo la solita tintera, tiritera, sorry, sulle feste della luce ovvero parate nate appositamente per disturbare chi vuole festeggiare Halloween in questi anni abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di genitori cattolici che incitavano i propri figli a insultare i bambini travestiti per Halloween assurdo, complimenti a questi genitori salutare i bambini e insultare i bambini e anche i loro genitori bell'esempio di tolleranza e fraternità cristiane e infatti complimenti veramente tante bravi ma bravi ma bravi vuoi aiutarci? condividi questo post che io metterò sappiamo che la fiera deve essere le vere origini di Halloween qui c'è chi ride, io sono proprio disgustata perché non sopporto certi allora ripeto, come ho detto a chi allora io posso sembrare una che si offende facilmente una permalosa allora innanzitutto io su certe cose ci tengo quando io leggo certe cose che voi non avete neanche iniziato a ascoltare e dite dici cazzate solo perché io mi ritengo strega mi sento strega e so di essere una strega in confronto e sto parlando di qualcosa che a voi non va mi dà fastidio perché io non vengo in chiesa non vengo alle addunanze degli altri religioni a dirvi stai dicendo cazzate io non ho una religione ripeto ho il mio pensiero, ho il mio modo di vedere il mondo sono una cittadina del mondo rispetto gli altri, gli altri redi, gli altri religiosi anche gli atei io ma non vengo a dirti stai dicendo cazzate a meno che tu non mi dica quello è indemoniato perché lo sappiamo benissimo che il diavolo non esiste voi direte, ah vedi che stai dicendo tu che non esiste voi datemi le prove che esiste e io vi dirò avete ragione non ci sono prove, vero? ok, comunque questo metterò la foto la foto di questo avviso che hanno messo sti cattolici c'è scritto non fate festa al diavolo festeggiare la festa di alu e rendere una zanna al diavolo il quale se adorato anche soltanto per una notte pensa di vantare dei diritti sulla persona i macabri mascheramenti le invocazioni appartengono guarda mi viene anche il vomito a leggere questa cosa sappiamo i genitori cristiani che in molte città italiane organizzate le feste della luce è un vero e proprio controffessivo ai steggiamenti del vero allora basta veramente basta con l'ignoranza voluta se siete ignoranti chiedete e vi sarà risposto come dite voi quando dite se non conosci Dio avvicinati allora noi non tocchiamo voi voi non toccate noi va bene se non sapete che cos'è Halloween se non sapete che cosa sono queste cose ve le leggerò adesso ma basta basta veramente offendere l'intelligenza altrui perché è assurdo salvo anche questa immagine la metterò nel video e ora voglio continuare a leggere dalle vere origini di Halloween che noi chiamiamo sewing Halloween sarebbe tutti i santi Halloween ok ah qui si parla sempre di altri altre persone che stanno cercando di mamma mia è il peggio che avete anche avete addirittura votato meloni in Italia io non lo so come la finirete perché quella è una di quelle lì che Halloween è nel diavolo cia 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 assurdo veramente assurdo continuiamo volevo leggervi qualcosa innanzitutto vi metterò link di questa pagina per chi volesse capire veramente le cose chi non le volesse capire continui a ignorare ma almeno ignori e non offenda per favore ignorate non offendete si qua continuano a far vedere che i cattolici mettono Halloween è una festa pericolosa assurdo ma volevo leggere qualcos'altro allora questa è una risposta il 12 ottobre è stato scritto una risposta all'ennesimo volantino anti Halloween ogni anno arrivano nuovi volantini contro Halloween e ogni anno ci impegniamo a rispondere per mettere un po' di sale in zucca alla gente il nostro scopo non è quello di convincere la gente a festeggiare se non vuole ma semmai di fare informazione esatto ecco perché apprezzo queste persone che hanno queste pagine in questo volantino leggiamo il classico noi la zucca la mangiamo sì beh anche noi è buona infatti noi la mangiamo che cavolo sì anche una a me mi ha scritto noi la mangiamo classica anche noi la mangiamo qual è il problema ma intagliarla è tradizione antichissima anche in Italia ne sono testimonianza centinaia di commenti che riceviamo ogni anno di chi ci racconta che i genitori ascoltate bene nonni e bisnonni intagliavano le zucche già 80 100 anni fa è una tradizione innocua possiamo garantire che la zucca intagliata non si trasforma in nessun demone anzi il suo scopo era tenere lontani gli spiriti maligni e attirare gli spiriti dei propri cari defunti leggiamo poi morte no grazie ma che significa la morte esiste che lo si voglia o no prima o poi tocca a tutti che lo si voglia o no ricorderemo che la religione cristiana nelle sue varie tradizioni lei ad aver inventato il detto memento mori com'è che ora non va più bene? ad Halloween tra le varie cose potete leggere tutto sui suoi significati e simbolismi nel nostro sito che metterò a punto per favore informatevi per favore basta con l'ignoranza voluta basta imporre ai vostri figli di pensarla come vuoi basta si ricorda la nostra mortalità e si esercizza la paura su vita abbondante in Gesù Cristo sorvoliamo ognuno è libero di credere in ciò che vuole ok finché non lede gli altri esatto la frase che segue che non riportiamo qui per via del limite caratteri su IG sarebbe Instagram ma che potete leggere nel volantino non ha nemmeno senso riferita da Halloween cosa c'entrano i ladri? vogliamo ricordare se mai che è stata la religione cristiana a rubare la pagana Sowing e trasformarla in Halloween appunto noi siamo io dico Sowing Halloween lo dicono i cristiani come al solito c'è tanta confusione nelle menti dei fanatici religiosi vi invitiamo a condividere questo post appunto che metterò ripeto metterò il link di questa pagina e chi volesse veramente capire le cose se è ignorante per favore si informi ah sì poi c'è questa bellissima iniziativa questo è stato il 12 settembre lanciato negli USA come campagna nazionale della Food Allergy Research Education nel 2014 il progetto Tail Pumpkin tradotto da noi come Zucca Azzurra serve per sensibilizzare la popolazione riguardo alle allergie alimentari a rendere il tradizionale dolcetto e scherzetto un momento di divertimento e allegria per tutti i bambini compresi colore che hanno gravi allergie alimentari regimi vegetariani o diabete come puoi partecipare? semplicissimo dipingi una zucca di azzurro mettila insieme ad altre fuori da casa da casa tua stampa il nostro un allantino informativo e appendilo fuori dalla tua porta puoi anche distribuirlo nei luoghi pubblici oltre alle solite caramelle da donare ai bimbi che fanno dolcetto e scherzetto compra dei piccoli che non siano cibo ovvero piccoli pensierini simpatici ed economici da donare a quei bambini che non possono mangiare i dolci per qualsiasi motivo qualche esempio scheletri pipistrelli torce ragni finti per rispetto al pianeta può optare per scelte green quindi disegni da colorare eccetera 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 passaparola condividui va bene vedete sono cose simpatiche qui hanno messo degli avvisi per favore perché molte persone per non buttare le zucche nella spazzatura le mettevano nei boschi e hanno chiesto per favore non fatelo meglio seppellirle perché praticamente molti ricci che dovrebbero in questa stagione andare in letargo si nutrono delle zucche poi rimangono gli scoppia la pancina in poche parole poverini perché mangiano tanto ecco qui si parla sempre degli anti Halloween perché stanno veramente diventando esagerati ecco qua ma aspettate adesso volevo leggervi ci sono tante formazioni utili la pagina di Halloween su Wikipedia in mano ai fanatici è veramente assurdo è veramente assurdo ok per adesso credo che debba lasciare così questo andremo a cercare dato che è ancora un po' di tempo dato che adesso come dovete spiegarlo ai bambini magari che cos'è Halloween senza tirare fuori le solite idee del diavolo io non ho capito perché devono fare paura ai bambini tra l'altro una cosa un'ottato c'è stata un'immagine una volta che mise un mio conoscente su face e mise questa immagine di un Gesù Cristo la statua di Gesù Cristo tutta insanguinata praticamente è questa mamma che portava il bambino per toccarlo a me sembra che sia quella la cosa veramente orripilante per un bambino se vuoi fargli conoscere Gesù Cristo senza imporrerlo soprattutto senza porrlo sorry dovresti farglielo conoscere in una maniera un po' più come dire un po' più genuina più carina non col sangue per dirgli lui ha sofferto per noi e adesso noi abbiamo dovere di eccetera eccetera non è il modo giusto di avvicinare i bambini mi dispiace dirvelo come quelli che dicono il diavolo è così il diavolo cos'ha per far i bambini far fare i bambini da bravi non è bello questo sto cercando halloween spiegato all'ignoranti sono cattiva vero adesso vi leggo le origini vere perché io vi posso dire delle sementi del però dato che adesso come adesso se non lo leggi da internet le persone non ti calcolano già anche quando le leggi mi scrivono sempre con le tue cazzate rispetta il giorno del signore quando io scrivo qualcosa che ecco io mi infurio perché io vi rispetto voi rispettiate me nel mio canale io leggo quel che voglio altrimenti ragazzi cercatevi le altre allora halloween etimologia del nome il nome halloween in irlandese halloween alof hin en deriva dalla forma contratta di whole hallow have cioè alof è la parola arcaica inglese significa santo la vigilia di tutti i santi quindi ogni santi invece in inglese whole hallow day l'importanza è che tuttavia viene data alla l'importanza che tuttavia viene data la vigilia si detuce dal valore della cosmologica celtica questa concezione del tempo seppur soltanto fondamentale è linguisticamente parlando molto presente nei paesi anglofoni in cui diverse feste sono accompagnate la parola eve tra cui la stessa notte di capodanno new year eve o la notte di natale christmas eve i celti e festeggiamenti di sawing i celti erano prevalentemente un popolo di pastori a differenza di altre culture europee come quelle del bacino del mediterraneo i ritmi della loro vita erano quindi scanditi dai tempi che l'allevamento del bestiame imponeva i tempi diversi da quelli dei campi alla fine delle stagioni estiva i pastori riportavano a valle le loro greggi per prepararsi all'arrivo dell'inverno e all'inizio del nuovo anno per i celti infatti l'anno nuovo non cominciava il primo gennaio come noi come oggi bensì il primo novembre quando terminava ufficialmente la stagione calda e iniziava la stagione delle tenebre e del freddo il tempo in cui ci si chiudeva in casa per molti mesi riparandosi dal freddo costruendo utensili e trascorrendo le serate a raccontare storie e leggende bellissimo anche a me piaceva ascoltare le storie o raccontarle un tempo leggevo i libri vicino al fuoco il passaggio dall'estate all'inverno e dal vecchio al nuovo anno veniva celebrato con lunghi festeggiamenti il sawing pronunciato so win dove so fa rima con co cow quindi sawing perché molti dico sawing molti dico sawing quindi cow sawing che deriverebbe dal gallico sawing sawing significa summer and fine dell'estate scusate ma ormai la mia gola mi sto trasformando per Halloween sawing mi trasformo da Linda Blair versione esercizio esercizio ok bando alle cianci cianci alle bande in Irlanda la festa della notte è come sawing o la salmon la festa del sole ma il concetto è lo stesso appunto dove vai si pronuncia io dicevo sawing da sentito qui poi c'è sawing boh sempre le ye in quel periodo dell'anno i frutti dei campi che pur non essendo la principale attività dei celti venivano comunque coltivati erano erano assicurati il bestiame era stato ben nutrito dell'aria fresca dei pascoli di monti e delle scorte dell'inverno erano state preparate e le scorte per l'inverno erano state preparate la comunità quindi poteva riposarsi e ringraziare gli dèi per la loro generosità ciò avveniva tramite lo sawing sawing che inoltre serviva ad esorcizzare l'arrivo dell'inverno e dei suoi pericoli unendo e rafforzando la comunità grazie a un rito di passaggio che propiziasse la benevolezza delle divinità ci vedete qualche diavolo in giro voi io no l'importanza che la popolazione celta attribuiva a sawing lo diciamo come loro risiede nella loro concessione del tempo visto come un cerchio suddiviso in cicli il termine di ogni ciclo era considerato molto importante carico di magia insieme a sawing 31 ottobre appunto si festeggiava l'uf nassad sorry primo agosto beltan il 30 agosto himbolk l'1-2 febbraio iuli il 21 dicembre io adoro iuli particolarmente ostara 21 marzo litha 21 giugno e mabon il 21 settembre iuli mi piace perché amo purtroppo quest'anno farò in maniera che tutti lo vedano perché evidentemente quello che misi allora spieghiamo io metto un un porta come ve lo spiego allora legata a un bastone un bastoncino di legno metto una specie di sacchetta dentro ci sarà una penna e dei fogli e scrivo tu visitatore quindi postini o quello vicino o quello che è siccome piove sempre per quello che non l'avevo messo fuori l'avevo attaccato alla porta forse non si vedeva scrivi i tuoi desideri e io farò nella notte di iuli che sarebbe quando bruci il il ho dimenticato l'italiano il il log sarebbe l'italiano il il ceppo di iuli brucerò questi desideri augurando che si avverino i migliori desideri naturalmente ecco io amo iuli particolarmente amo ogni ogni cosa ma iuli la sento più vicina anche a stara per carità niente la sento vicina anche oddio sewing sewing Halloween per me è fantastica ma è particolarmente iuli non lo so perché forse perché mi rammenta i racconti di iuli adesso parliamo ero a sewing e racconta che iuli speriamo di non diventare troppo perché mi raccontava la mia amica Sara che mi mi avvicinò a questo che è praticamente tempi andati non tutti potevano avere il fuoco e quindi chi aveva possibilità di avere il fuoco portava un ceppo rovente a coloro che non avevano il fuoco per poterli riscaldare in modo di dare conforto benedizioni eccetera e quindi cosa si fa c'è una tradizione che si fa non l'ho potuta fare perché in effetti non mi ricordo neanche per quale motivo vabbè l'ho fatta con lei la prima volta allora una persona rimane e porta una candela dentro la casa di un'altra e va in ogni angolo della casa a accendere ogni candela che sarà stata posta naturalmente dal 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 dimorante come augurare luce benessere prosperità eccetera e io trovo che sia meraviglioso meraviglioso vabbè comunque stiamo parlando di sawing continuiamo quindi l'avvento del cristianesimo non ha del tutto cancellato queste festività ma in molti casi si è sovrapposto ad esse conferendo loro contenuti significati diversi da quelli originari la morte era in tema principale della festa in sintonia con ciò che stava avvenendo in natura durante la stagione invernale la vita sembra tacere mentre in realtà si rinnova sottoterra dove tradizionalmente tra l'altro riposano i morti da qui è comprensibile l'accostamento delle sawing al culto dei morti il seme dimora sotto la terra sembra che dorma ma cioè sta dormendo sembra che è morto ma poi nascerà una vita giusto? quindi non niente legato al diavolo vogliamo mettercelo in testa per favore vogliamo capire veramente il senso e togliere questo disagio mentale che senza offesa perché adesso se dici disagio chissà cosa pensano ma è veramente disagiante che i ragazzini debbano sentire queste scusanti dai preti chi va festeggia questo festeggia il compleanno di satara ma che state dicendo? continuiamo i celti creevano che alla vigilia di ogni anno cioè il 31 ottobre sawing sawing chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti che vivevano in una landa di eterna giovinezza e felicità chiamata tirna hoge e che le forze degli spiriti potessero unirsi al mondo dei viventi provocando in questo modo il dissolvimento temporaneo delle leggi del tempo e dello spazio e facendo così che l'aldilà si fondesse col mondo dei vivi e permettendo agli spiriti erranti di vagare indisturbati sulla terra sawing era dunque una celebrazione che univa la paura della morte degli spiriti all'allegria dei festeggiamenti per la fine del vecchio anno durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei raduni e sulle colline per la cerimonia dell'accensione del fuoco sacro venivano effettuati sacrifici animali un tempo adesso non più vestiti con maschere grotteste i celti tornavano al villaggio facendosi luce con lanterne costituite da cipolle intagliate al cui interno erano poste le bracci del fuoco sacro dopo questi riti i celti festeggiavano per tre giorni mascherandosi con pelli degli animali uccisi per spaventare gli spiriti in Irlanda si diffuse l'usanza di accendere torci e fiaccole fuori dagli usci e di lasciare cibo e latte per le anime dei defunti che avrebbero reso visita ai propri familiari affinché potessero rifocillarsi e decidessero di non fare scherzi ai viventi l'avvento del cristianesimo scusate devo bere acqua lo so per molti è maleducazione bere dalla bottiglia per me la maleducazione è ben altra è andare a fare del male io io bevo bella fresca la fonte della vita attraverso le conquiste romane cristiani e celti vennero a contatto l'evangelizzazione delle isole britanniche portò con sé un nuovo concetto della vita molto distante da quello celtico e durante tale periodo la chiesa tentò di sradicare i culti pagani ma non sempre vi riuscì per fortuna Halloween non fu completamente cancellata ma fu in qualche modo cristianizzata tramite l'istituzione del giorno di ogni santi primo novembre in seguito della comemorizzazione dei defunti il 2 novembre quindi prima non esistevano queste due date ragazzi sia ben chiaro fu Odilone di Cloni nel 998 dopo Cristo a dare la via a quella che sarebbe stata una nuova e longeva tradizione della società occidentale allora egli diede a disposizione affinché i monasteri dipendenti dell'abbazia celebrassero il rito dei defunti a partire dal vespro del primo novembre il giorno seguente era invece disposto che fosse commemorato con un'ecarestia offerta al Signore pro requie omnium defuctorum un'usanza che si diffuse ben presto in tutta l'Europa cristiana per giungere a Roma più tardi la festa di ogni santi infatti fu celebrata per la prima volta a Roma il 13 maggio del 609 dopo Cristo in occasione della consacrazione del panteo dalla Vergine Maria successivamente Papa Gregorio III stabilì che la festa di ogni santi fosse celebrata non più il 13 maggio bensì il primo novembre come avveniva già da tempo in Francia fu circa nel ottavo no non è ottavo oddio non ho secolo dopo Cristo spero di non sbagliare che la festa di ogni santi venne ufficialmente istituzionalizzata e quindi estesa tutta la chiesa per opera di Papa Gregorio IV andiamo avanti fanno eccezione i cristiani ortodossi che correntemente con le prime celebrazioni ancora oggi festeggiano ogni santi in primavera la domenica successiva alle pentecoste l'influenza del culto di Sowing non fu tuttavia sradicata e per questo motivo la chiesa giunse nel decimo secolo una nuova festa il 2 novembre giorno dei morti dedicato alla memoria delle anime degli scomparsi quindi oltre che mascherare le cose vogliono anche cancellarle del tutto e no basta e basta noi non stiamo cancellando il vostro Natale perché dovete rompere scatole a noi punto dall'Irlanda agli Stati Uniti verso la metà del io i numeri romani non me li ricordo più diciottesimo secolo ragazzi qua io devo andare a vedere perché mi vergogno mi vergogno mi vergogno non mi ricordo i numeri romani e non voglio sbagliare le date perché è brutto e che cavolo mi sento una popò da sta au allora dunque sì ma così non vedo una mazza numeri romani io ma f e che cavolo quindi quel 10 lo so che è quel 10 voglio sapere quell'altro quello là quello là ah ecco dunque quello che dissi prima era come ho detto adesso cosa stavo di leggendo del del x diciannovesimo secolo ecco quindi era nono secolo prima non era ottavo secolo era nono secolo l'avevo detto giusto quindi quindi questo verso la metà del diciannovesimo secolo l'Irlanda fu investita una terribile carestia ancora oggi ricordata con grande partecipazione degli irlandesi in quel periodo per sfuggire alla povertà molte persone decisero di abbandonare l'isola e di tentare fortuna negli Stati Uniti dove crearono come molte altre nazionalità una forte comunità all'interno di essa venivano mantenute vive le tradizioni e di costumi della loro patria e tra di essi il 31 ottobre veniva celebrato Halloween ben presto questa usanza si diffuse in tutto il popolo americano diventando quasi una festa nazionale più recentemente gli Stati Uniti grazie al cinema e alla televisione hanno asportato in tutto il mondo i festeggiamenti di Halloween contagiando anche quella parte dell'Europa che ne era rimasta estranea in moltissimi film telefilm spesso appaiono la famosa azucca e i bambini mascheratti che bussano alle porte e molti infine sono i libri e i racconti horror che prendono Halloween come sfondo o come spunto delle loro trame negli Stati Uniti Halloween ha perso i suoi significati religiosi e rituali ed è diventato un'occasione per divertirsi e organizzare costosi e allegri festeggiamenti pare che ogni anno gli americani spendano 2 milioni e mezzo di dollari in costumi adobe e feste per il 21 ottobre mi sembra un po' esagertato esagerato esagerato vabbè ognuno fa il proprio ok detto questo ragazzi io vi auguro ogni buona festa ogni celebrazione che fate voi ve l'auguro di tutto il cuore di sentire la mano per favore rispettate anche le tradizioni e le usanze altrui solo questo un abbraccio qui Jenny streghe eretica solitaria happiness enjoy blessed day and volate in alto and devonate in alto bellissima fly ciao good Jenny good Jenny